Sesta del convegno è il premio Scipione MP, un doppio chilometro per soggetti di 3 anni, 2100 metri, 9 al via, Ziam e Mekla, Zante di No, Zingaro Doc, Zarif, Zingaretti Griff, Zimajet e Zefirus Bari in seconda fila, Zef e Zacarias Ferm. Macchina che gradualmente va in accelerazione, qualche difficoltà per Zacarias Ferm. Parte piano, Zante di No, lo stacco, nel lancio c'è battaglia per il comando, prova ad emergere Zingaro Doc, all'esterno si avvia molto veloce anche Zimajet, Zimajet prende l'iniziativa su Zingaro Doc che probabilmente si ripresenterà. Poi Ziam e Mekla allargo Zarif, la scia di Zarif, Zacarias, incorda Zef, intanto il passaggio ai primi 200 metri in 15 e 1. quando si va sulla retta opposta alle tribune, Zimajet a scandire il ritmo davanti a Zingaro Doc, poi Ziam e Mekla, Zingaro sposta, va su Zimajet che lascia sfilare l'avversario. Arriva subito Zef, intanto all'esterno anche Zarif con in terza Zacarias, subito Zef all'attacco di Zingaro all'imbocco della seconda curva. Zef impegna Zingaro che cerca di difendere lo stettato 31 e 2, i 400 iniziali, poi un 14 e 4 di terza frazione con Zef che attacca Zingaro che difende la posizione. Zef sta cercando di ultimare il sorpasso, Zingaro prova a rientrare all'avversario, ma dopo 800 metri Zef passa a condurre 59 e mezzo per i primi 800 metri, intanto è rimasto lontano Zephyrus Bar. Si va verso la chiusura del primo chilometro che Zef completa in 1.14 e mezzo, adesso c'è il pressing di Zacarias ferme, Zef e Zacarias alle prese, poi Zingaro davanti a Zimajet, il secondo chilometro inizia con un paletto in 16, Zef alla corda, Zacarias all'esterno, Zingaro appostato seguito da Zimajet, poi ancora Ziameme Klae, infine Zarif poco più di 600 metri alla conclusione con Zef alla corda, Zacarias all'esterno, poi Zingaro appostato davanti a Zima, Ziameme che sposta, ancora Zarif all'argo Zantedino, in terza ruota anche Zingare e Tigrif, la curva conclusiva, Zacarias ha finito. E allora prova a uscire Zingaro, Doc anticipando Ziameme Klae, con Zef sempre in vantaggio, Zef al comando, poi Zingaro, Ziameme, Zarif per le vie brevi, allargo Zimajet, 200 per venire a casa, con Zef al comando, poi Zingaro, Ziameme, Zimajet, Zef in vantaggio, Zingaro che insegue, Zef al comando, Zef che va a vincere netto davanti a Zingaro Doc, per il terzo Ziameme Klae, avvicinata nel finale da Zimajet, rivedremo l'arrivo, per il terzo posto intanto, io ho 2,32 per i 2000 metri netti, ovviamente non ho i primi 100 metri, che saranno stati passati molto molto veloci, quindi la media può essere intorno all'1,14 e mezzo, 14,6, e questo è un bel primo piano per il vincitore Zef, Alessandro Gocciadoro che fa Tris, il training sempre di Alessandro, i colori sono della scudera di Rhinoceronte, il secondo per Zingaro Doc, il terzo per Ziameme che si salva da Zimajet.